Buongiorno a tutti, buon martedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video vediamo di fare il punto della situazione sulla promessa di innalzare le pensioni minime a 1000 euro. Tali pensioni sarebbero dovute essere innalzate a questa cifra nel 2024 come era stato promesso in campagna elettorale da Forza Italia. Vediamo insieme tutti i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Durante la campagna elettorale dell'agosto 2022 Silvio Berlusconi, allora leader di Forza Italia, aveva annunciato l'intenzione di portare le pensioni minime alla soglia dei 1000 euro. Due anni dopo cos'è rimasto di questa promessa? Poco, considerando che oggi la pensione minima è pari a 614,77 euro e l'aumento su queste ultime da parte del neogoverno è stato di soli 16,16 euro. La morte di Berlusconi non ha aiutato e nonostante Forza Italia insista su questo obiettivo è chiaro che nelle attuali condizioni la proposta è irrealizzabile. Le risorse sono limitate e aumentare le pensioni minime a 1000 euro richiederebbe un esborso di miliardi di euro che al momento non è possibile permetterci. Infatti il governo ha persino ridotto gli aumenti per le pensioni minime eliminando la rivalutazione straordinaria del 6,4% che era stata destinata agli over 75. Dopo l'approvazione del documento di economia e finanza dello scorso aprile Antonio Tajani, nuovo leader di Forza Italia, ha ribadito che farà di tutto per portare le minime a 1000 euro al mese entro la fine della legislatura. Questa proposta, inizialmente avanzata da Berlusconi, puntava a replicare quanto era stato fatto nel 2001 quando l'ex cavaliere mantenne la promessa di aumentare le minime a un milione di lire, ma solo per gli over 70 con i redditi bassi. Secondo Forza Italia l'obiettivo dovrà essere raggiunto, come detto, entro la fine della legislatura. Piccoli passi in avanti sono stati fatti nel 2022, infatti la pensione minima era di 524,34 euro al mese, mentre oggi è di 614,77 euro mensili, un incremento di oltre 1000 euro l'anno dovuto in gran parte all'inflazione. L'intervento del governo Meloni si è limitato a incrementare di 2,7% le minime portandole a un aumento di 16,16 euro al mese, circa 210 euro l'anno. Per arrivare a 1000 euro dunque mancano ancora la bellezza di 385,23 euro. Per un incremento di soli 16 euro al mese sono stati spesi 380 milioni di euro. Per arrivare a 1000 euro il costo sarebbe di circa 9 miliardi, quindi al momento una cifra che non può essere sborsata da parte delle casse dell'erario. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Grazie.